Cosa vuol dire ambasciatore non porta pena? Non si può dare una colpa a una persona che dà una notizia, anche se la notizia non è gradita. Spesso gli ambasciatori ricevono una sorta di immunità per quello che devono riferire perché non vengono ritenuti responsabili delle notizie che stanno annunciando. Ma dal punto di vista storico non è avvenuto sempre. Sappiamo che alcuni ambasciatori furono uccisi perché la loro ambasciata non era gradita. Le espressioni che traducono in altre lingue la medesima espressione italiana, ambasciador non porta pena, sono quella inglese che è meno poetica rispetto a quella italiana. Quella latina Grazie. 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 Grazie.